Ciao, io sono Andelirfa e oggi mi trovo su Palworld. Ragazzi, nel scorso video abbiamo visto come droppare dai pal il miele. Questa volta andremo a catturare una creatura, o meglio un pal, che invece ci fornirà il miele in maniera passiva all'interno della nostra base. Dunque, il pal in questione è questo qui, una specie di ape, e la troviamo intorno al livello 20. Ora vi mostro dove trovare questo tipo di animale. Come vi spiegavo prima, una volta catturata l'ape, la andremo a inserire dentro il nostro box, pal box, e la possiamo andare a mettere all'interno del recinto, in modo che ci produrrà in maniera passiva il miele. Dunque, tornando a noi, vi voglio consigliare di andare a utilizzare, se siete qualche livello sotto al livello dell'animale, la sfera, quella verde. Se invece siete superiori al livello dell'animale, basterà semplicemente utilizzare le sfere, quelle azzurre. Ok ragazzi, questa breve guida è finita qua. Vi ringrazio per la visione, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e attivare tutte le campanelle. Grazie a tutti.